Il vicepreside si procura un lancia missili. Non sapevo che genere di mostro fosse il dottor Thorn, ma di sicuro era veloce. Forse sarei riuscito a difendermi se avessi potuto attivare lo scudo. Mi sarebbe bastato toccare l'orologio. Ma difendere i fratelli di Angelo era un'altra storia. Avevo bisogno di aiuto e riuscivo a pensare a un solo modo per ottenerlo. Chiusi gli occhi. Che stai facendo, Jackson? Sibilò il dottor Thorn. Muoviti. Apri gli occhi e continuai a strascicare i piedi. È la spalla, mentì, sforzandomi di fare una voce sofferente, cosa che non mi riuscì difficile. Brucia? Beh, il mio veleno provoca dolore, ma non ti ucciderà. Camina! Il dottor Thorn ci condusse fuori e io cercai di concentrarmi. Immaginai la faccia di Grover. Misi a fuoco le mie sensazioni di paura e di pericolo. L'estate prima, Grover aveva creato un collegamento empatico fra noi. Mi aveva mandato delle visioni in sogno per farmi sapere quando era nei guai. Per quanto ne sapevo, eravamo ancora legati, ma non avevo mai provato a contattarlo. Non sapevo nemmeno se avrebbe funzionato mentre lui era sveglio. Ehi, Grover! Pensai. Thorn ci sta rapendo! È un lanciatore pazzo di chiodi avvelenati! Aiuto! Il dottor Thorn ci fece entrare nel bosco. Imboccammo un sentiero coperto di neve, fiocamente illuminato da lampioni all'antica. Mi faceva male la spalla. Il vento che mi filtrava tra i vestiti strappati era talmente gelido che mi sembrava di essere un ghiacciolo. c'è una radura più avanti, annunciò il vicepreside. Gli chiameremo chi ci verrà a prendere. Qualcuno ci viene a prendere? domandò Bianca. Per andare dove? Silenzio, insopportabile ragazzina! Non parlare così a mia sorella! intervenne Nico. Gli tremava la voce, ma mi sorprese che avesse avuto il fegato di protestare. Il dottor Thorn rispose con una specie di ringhio che non aveva assolutamente nulla di umano. Mi fece rizzare i capelli in testa, ma mi sforzai di continuare a camminare e fingermi un bravo piccolo prigioniero. Nel frattempo proiettavo i miei pensieri a più non posso, usando qualunque cosa pur di attirare l'attenzione di Grover. Grover! Mele! Lattine! Porta subito qui le chiappe e vedi di portare anche dei rinforzi armati! Alt! esclamò il dottor Thorn. Il bosco si era diradato. Eravamo su una scogliera sul mare. O almeno percepivo che il mare fosse laggiù, alla fine di uno strapiombo di centinaia di metri. Udivo le onde che ribollivano e sentivo il profumo della schiuma gelida e salata. Ma non vedevo nient'altro che foschia e oscurità. Il vicepreside ci spinse verso il bordo. Inciampai e Bianca mi sostenne. Grazie, mormorai. Che cos'è quello? Bisbigliò lei. Come lo combattiamo? Io ci sto lavorando. Ho paura, mormorò Nico. Stava giocherellando con qualcosa, una specie di soldatino di metallo. Ziti! Ordinò il dottor Thorn. Guardatemi! Ci voltammo. Gli occhi bicolore di Thorn luccicarono famelici. Si tirò fuori qualcosa da sotto la giacca. All'inizio pensai che fosse un coltello a serramanico, ma era soltanto un telefono. Pigiò un pulsante laterale e disse. Il pecco è in ponta consegna. Ci fu una risposta metallica e mi resi conto che Thorn stava parlando in modalità radiotrasmittente. Mi sembrò una cosa un po' troppo moderna, inquietante. Un mostro che usava il cellulare. Mi lanciai un'occhiata alle spalle, chiedendomi quanto fosse alto lo strapiombo. Il dottor Thorn rise. Ma certo, figlio di Poseidone. Salta! Il mare è lì. Salvati! Come ti ha chiamato? Mormorò Bianca. Te lo spiego dopo, risposi. Però ce l'hai un piano, vero? Grover! Pensai disperatamente. Vieni subito! Forse potevo convincere i diangelo a saltare con me nell'oceano. Se fossimo sopravvissuti alla caduta, avrei potuto usare l'acqua per proteggerci. Avevo già fatto cose del genere in passato. Se papà era di buon umore ed era in ascolto, avrebbe potuto aiutarmi. Forse. vi usiderei prima ancora che riusciate a sfiorare l'acqua, disse il dottor Thorn, come leggendomi nel pensiero. Non hai capito chi sono, vero? Un barlume di movimento alle sue spalle e un altro missile mi graffiò l'orecchio sibilando. Qualcosa era scattato dietro il dottor Thorn. Come una catapulta, ma più flessibile. Quasi come una coda. Purtroppo vi vogliono vivi, se possibile, continuò il vicepreside. Altrimenti sareste già morti. Chi ci vuole? Domandò Bianca. Perché se sta pensando di ottenere un riscatto si sbaglia. Non abbiamo una famiglia. Io e Nico... La voce le si incrinò un poco. Siamo solo noi. Oh! Esclamò il dottor Thorn. Non preoccupatevi, marmocchi. Incontrerete il mio capo molto presto. E allora avrete una famiglia nuova di zecca. Luke! Conclusi io. Lei lavora per Luke! La bocca del dottor Thorn si piegò in una smorfia di disgusto quando pronunciai il nome del mio vecchio nemico. Un ex amico che aveva cercato di uccidermi diverse volte. Tu non hai idea di cosa sta succedendo, Perseus Jackson? Lascerò che sia il generale a illuminarti. Stai per rendergli un grande servizio stanotte. Non vede l'ora di incontrarti. Il generale? Chiesi. Poi mi resi conto di averlo detto con l'accento francese. Cioè, chi è il generale? Thorn guardò verso l'orizzonte. Ah, ci siamo. Il vostro mezzo di trasporto? Mi voltai e vidi una luce in lontananza. Un faro sul mare. Poi udì vibrare le eliche di un elicottero. Sempre più forte. Sempre più vicino. Dove ci sta portando? Chiese Nico. Dovresti sentirti onorato, figliolo. Avrai l'opportunità di unirti a un grande esercito. Proprio come in quel gioco sciocco che fai con le carte e le bamboline. Non sono bambole. Sono miniature. E lei può prendersi il suo grande esercito e met... Ehi! Lo frenò il dottor Thorn in tono minaccioso. Cambierai idea, figliolo. E se non lo farai? Ci sono altri destini per il mezzo sangue. Abbiamo molte fausci mostruose da sfamare. Il grande risveglio è cominciato. Il grande che? Chiesi. Qualunque cosa, purché continuasse a parlare, mentre io cercavo di escogitare un piano. Il risveglio dei mostri. Il dottor Thorn sorrise maligno. I peggiori più potenti si stanno ridestando. mostri che non si vedevano da migliaia di anni, che causeranno morte e distruzione come i mortali non hanno mai visto. E presto apparirà il mostro più importante di tutti. Quello che porterà alla caduta dell'Olimpo. Ok, bisbigliò Bianca. Questo qui è matto da legare. Dobbiamo saltare giù dalla scogliera, le dissi sottovoce. In mare. Oh, fantastico! Anche tu sei matto da legare. Non ebbi mai l'occasione di ribattere, perché proprio in quell'istante una forza invisibile mi si abbatté addosso. A ripensarci ora, la mossa di Annabeth fu brillante. Con il berretto dell'invisibilità in testa, era piombata su di me e sui di Angelo, scaraventandoci a terra. Per una frazione di secondo, il dottor Thorn fu preso alla sprovvista e la sua prima raffica di proiettili ci sorvolò senza conseguenze. Talia e Grover ebbero invece l'opportunità di farsi avanti alle sue spalle, Talia brandendo il suo scudo magico. Legida. Se non avete mai visto combattere Talia, non avete mai provato veramente cos'è la paura. Usa un'enorme lancia che si sprigiona da una bomboletta di spray anti-aggressione, ma non è questa la parte che fa paura. Il suo scudo è una replica di quello di suo padre Zeus, legida appunto, un dono di Atena. Lo scudo ha la testa della gorgone medusa scolpita nel bronzo e anche se non ti trasforma in pietra, è così raccapricciante che la maggior parte della gente se la dà a gambe in preda al panico, non appena lo vede. Perfino il dottor Thorn trasalì e ringhiò alla sua vista. Talia attaccò con la lancia. Per Zeus! Pensai che fosse spacciato. Talia aveva mirato alla testa, ma Thorn ruggì e parò il colpo, spingendo la lancia di lato. La sua mano si trasformò in una zampa arancione con delle enormi chele che si abbatterono contro lo scudo di Talia, sollevando scintille. Se non fosse stato per l'egida, Thorn l'avrebbe fatta a fette come un filone di pane. Così, invece, Talia riuscì a fare una capriola all'indietro e atterrò in piedi. Il rumore dell'elicottero si stava intensificando, ma non osai girarmi a guardare. Il dottor Thorn bersagliò Talia con un'altra raffica di missili e stavolta riuscì a vedere come. Aveva una coda, una coda coriacea da scorpione, irta di aculei sulla punta. I colpi cozzarono contro l'egida e deviarono dalla traiettoria, però la forza dell'impatto mandò Talia al tappeto. Grover partì all'attacco. Si portò il flauto di canne alla bocca e cominciò a suonare, un motivetto frenetico che somigliava a una giga da pirati. L'erba spuntò in mezzo alla neve. Nel giro di pochi secondi, degli arbusti spessi come corde si avvilupparono attorno alle gambe del dottor Thorn, intrappolandolo. Il vicepreside ruggì e cominciò a trasformarsi. Si ingrandì fino ad assumere la sua vera forma, con il volto ancora umano, ma il corpo di un leone gigantesco. La coda coriacea e appuntita scagliava aculei micidiali in ogni direzione. «Una manticora!» esclamò Annabeth, tornata visibile. Aveva perso il berretto magico degli Yankees quando ci aveva scaraventati a terra. «Ma voi che accidenti siete?» domandò Bianca di Angelo. «E quello che cos'è?» «Una manticora?» ripete Nico, sbigottito. «Ha tremila punti di attacco più cinquemila di munizioni!» Non sapevo di cosa stesse parlando, ma non ebbi il tempo di preoccuparmene. La manticora fece a pezzettini gli arbusti magici di Grover e si voltò verso di noi con un ringhio. «Giù!» Annabeth spinsei di Angelo con la faccia nella neve. All'ultimo secondo mi ricordai di avere anch'io uno scudo. Pigiai sul mio orologio e una piastra metallica si allargò a spirale formando uno spesso scudo di bronzo. «Appena in tempo!» Le spine vi si abbatterono contro con una forza tale da scalfire il metallo. Il bellissimo scudo, dono del mio fratellastro, subì dei gravi danni. Non sapevo se avrebbe retto una seconda raffica. Udì un colpo sonoro e un gemito. Poi Grover mi cadde accanto di peso. «Arrendetevi!» ruggì il mostro. «Mai!» gridò Talia dalla parte opposta. Ripartì all'attacco e per un secondo pensai che avrebbe trafitto quella creatura mostruosa. Ma poi un rumore di tuono e un lampo di luce ci sorpresero alle spalle. L'elicottero sbucò dalla foschia a un passo dal bordo della scogliera. Era un grosso elicottero da combattimento, nero e lucido, con degli aggeggi ai lati che avevano tutta l'aria di essere dei missili a guida laser. L'equipaggio doveva essere mortale. Ma che ci faceva lì? Com'era possibile che dei mortali lavorassero con un mostro. I fari accecarono Talia e la manticora la scagliò via con la coda. L'egida finì in mezzo alla neve. La lancia volò nella direzione opposta. «No!» urlai e corsi ad aiutarla. Parai un acureo un attimo prima che la colpisse in pieno petto. Sollevai lo scudo per proteggerci, ma sapevo che non sarebbe bastato. Il dottor Thorne rise. «Ora lo capite che è una causa persa? Arrendetevi, piccoli eroi!» Eravamo intrappolati fra un mostro e un elicottero armato. Non avevamo nessuna possibilità. Poi udì un suono nitido e acuto. Il richiamo di un corno da caccia nel bosco. La manticora si bloccò. Per un momento nessuno si mosse. Si udivano solo il vorticare della neve e del vento e il ronzare delle eliche dell'elicottero. «No!» esclamò il dottor Thorne. «Non può essere!» Qualcosa mi settò accanto come un lampo di luna e il mostro rimase con la frase in sospeso. Una scintillante freccia d'argento gli spuntò dalla spalla. Il dottor Thorne arretrò con un gemito agonizzante. «Maledetti!» gridò. Scagliò decine di aculei nel bosco, nella direzione da cui era venuta la freccia, ma decine di frecce d'argento risposero prontamente all'attacco. Sembrò quasi che le frecce intercettassero le spine a mezz'aria, spezzandole in due. Ma pensai che fosse un'illusione ottica. Nessuno, nemmeno i ragazzi di Apollo al campo, poteva tirare con tanta precisione. La manticora si strappò la freccia dalla spalla con un ululato di dolore. Respirava a fatica. Cercai di colpirla con la spada, ma era meno mal ridotta di come sembrava. Schivò il mio attacco e sbatté la coda sul mio scudo, scansandomi con violenza. Poi gli arcieri spuntarono dal bosco. Erano delle ragazze, circa una decina. La più piccola avrà avuto dieci anni e la più grande quattordici, come me. Indossavano jeans e parka argentati ed erano tutte armate di archi. Avanzarono verso la manticora con un'espressione determinata in viso. «Le cacciatrici!» esclamò Annabeth. Accanto a me, Talia mormorò. «Oh, fantastico!» Non ebbi l'opportunità di chiederle spiegazioni. Una delle arciere più grandi fece un passo avanti, con l'arco teso. Era alta e armoniosa, con la pelle ambrata. A differenza delle altre ragazze, aveva un cerchietto d'argento intrecciato sulla sommità dei lunghi capelli scuri, che la faceva assomigliare a una specie di principessa persiana. «Ho il permesso di uccidere mia signora?» Non riuscì a capire a chi si rivolgesse, perché aveva gli occhi fissi sulla manticora. Il mostro gemette. «Non è giusto! È un'interferenza diretta! È contro le antiche leggi!» «Non direi!» replicò un'altra ragazza. «Era un po' più piccola di me, forse di un paio di anni. Aveva i capelli ramati raccolti in una coda e occhi strani di un giallo argentio come la luna. Il viso era così bello da togliermi il fiato, ma l'espressione era severa e pericolosa. La caccia di tutte le bestie selvatiche rientra nella mia sfera. E tu, orrenda creatura, sei una bestia selvatica!» Guardò la ragazza con il cerchietto. «Zoe, permesso accordato!» La manticora ringhiò. «Se non posso averli vivi, li avrò morti!» Si gettò su di me e Talia, sapendo che eravamo deboli e storditi. «No!» gridò Annabeth e attaccò il mostro. «Indietro, mezzo sangue!» gridò la ragazza con il cerchietto. «Via dalla linea di tiro!» Invece Annabeth balzò sulla groppa del mostro e gli conficcò il coltello nella criniera. La manticora ululò, roteando e dimenando la coda, mentre Annabeth si reggeva con tutte le sue forze. «Fuoco!» ordinò Zoe. «No!» gridai io. Ma le cacciatrici scoccarono le frecce. La prima colpì la manticora sul collo, un'altra al petto. Il mostro barcollò all'indietro, gemendo. «Questa non è la fine, cacciatrice! La pagherai!» E prima che chiunque di noi potesse reagire, la manticora, con Annabeth ancora in groppa, balzò oltre la scogliera e piombò nell'oscurità. «Annabeth!» urlai. Feci percorrerle dietro, ma i nostri nemici non avevano ancora finito con noi. Si udì uno snap 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 dall'elicottero. Il rumore di un'arma da fuoco. Quasi tutte le cacciatrici si sparpagliarono, quando a pochi centimetri dai loro piedi spuntarono dei minuscoli forellini nella neve, ma la ragazza con i capelli ramati si limitò a posare uno sguardo impassibile sull'elicottero. «Ai mortali non è concesso di assistere alla mia caccia», decretò. Allungò la mano in avanti e l'elicottero esplose, riducendosi in polvere. No, non in polvere. Il metallo nero si dissolse in uno stormo di uccelli, dei corvi che si dispersero nella notte. Le cacciatrici avanzarono verso di noi. Quella di nome Zoe si fermò non appena vide Talia. «Tu!» disse poi scrutò il resto di noi. «Quattro mezzosangue e un satiro, mia signora». «Sì», disse la ragazza più piccola. «Ragazzi del campo di Chirone, vedo». «Annabeth!» gridai. «Dovete permetterci di salvarla!» La ragazza con i capelli ramati si voltò verso di me. «Mi dispiace, Percy Jackson, ma la tua amica non si può più aiutare». Cercai di alzarmi, ma due delle ragazze mi costrinsero a restare a terra. «Non sei nelle condizioni di precipitarti giù da una scogliera», continuò la ragazza con i capelli ramati. «Lasciami andare!» protestai. «Chi ti credi di essere?» Zoe fece un passo avanti, come per schiaffeggiarmi. «No», ordinò l'altra. «Non percepisco irriverenza, Zoe. È solo sconvolto. Non comprende». Mi guardò, gli occhi più gelidi e luminosi della luna invernale. «Io sono Artemide», disse, dea della caccia.